Un team internazionale per sostenere lo chef Martino Ruggeri alla finale europea del Bocuse d'Or che si terrà l'11 e il 12 giugno prossimi a Torino. Ne fanno parte, oltre al portacolore italiano, il presidente Giancarlo Perbellini del ristorante Casa Perbellini, il coach François Poulin e il commis belga Curtis Clement Moulpas del ristorante Les Douaien di Parigi. Siamo consapevoli del lavoro che da adesso in avanti ci toccherà fare. Abbiamo il box d'allenamento pronto, abbiamo rimisurato con le misure nuove e l'abbiamo messo a punto settimana scorsa, quindi ci siamo. Dopo la selezione di Alba, vedendo quello che è stato fatto e i progressi che ha fatto il nostro candidato abbiamo delle buone possibilità per poter accedere alla finale di Lione. Poi si gioca tutto in un giorno e ci vuole anche un po' di fortuna, oltre che di bravura. Un team affiatato che ha il compito di conquistare la finale di Lione, traguardo mai raggiunto dall'Italia. Per questo l'Accademia Bocuse d'Or ha predisposto uno spazio di allenamento all'interno del Palazzo dei Congressi di Alba, spazio che riproduce fedelmente quello della finale nel quale Ruggeri e il suo team potranno prepararsi. Abbiamo lavorato tantissimo in questo anno e mezzo per far sì che il nostro candidato Martino Ruggeri abbia tutte le carte in regola per potersi presentare nel migliore dei modi e rappresentare l'Italia per quello che vale. Ci stiamo preparando, abbiamo quasi finito i gusti, abbiamo quasi deciso i piatti, adesso faremo degli assaggi con degli chef internazionali, prima a Parigi poi ad Alba e poi riusciremo, credo, a rientrare nei tempi che sono 5 ore e 35 minuti e voilà. Il team italiano si confronterà il 12 giugno con avversari di Antico Blasone, primi fra tutti gli chef dei paesi nordici che vantano una grande tradizione nei concorsi culinari.